Esatto, esatto. Bene, allora buonasera a tutti. Questa sera abbiamo con noi due per la nostra conferenza consueta del giovedì, il presidente dell'Associazione Dalmati Italiani nel Mondo, libero comune di Zara in esilio, Tony Concina. Grazie Tony, siamo felici di averti con noi. E il dottor Marino Micic, direttore dell'archivio Museo Storico di Fiume, docente di Master Storico all'Università Niccolò Cusano di Roma. Vi ringrazio infinitamente, anche a nome del nostro presidente e del presidente del nostro comitato Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Milano, che oggi purtroppo non può essere presente. Vi saluta caramente e chiaramente vi ringrazia. Che dire, oggi è un momento particolare, quando si parla di Dalmazia è sempre parlare di cose forti, per cui sia Tony che Marino ci daranno questa forza d'albata e ce la trasmetteranno. Per cui cominciamo da Tony, che poi purtroppo anche lui, per altri impegni precedenti, ci lascerà, a un certo punto ci saluterà e ci lascerà. Allora Tony, tocca a te, grazie. Grazie Anna Maria. Io mi scuso, ma come vedete dall'inquadratura sono in macchina e in una situazione un po' precaria. Però non potevo non obbedire all'invito di Anna Maria, prima cosa per l'importanza degli incontri del giovedì e poi per un sentimento sincero di ammirazione e gratitudine verso Marino Micic, che si moltiplica ogni giorno nelle fatiche di diffusione del nostro pensiero, delle nostre problematiche. E davvero comincio a domandarmi come accidenti faccia. Io in questo periodo del giorno del ricordo, mi sono dato anch'io da fare, ho girato l'Italia lungo e largo, come forse leggerete alcuni di voi dal dalmata digitale che la Sisa Bari ci ha appena editato. Abbiamo letto, abbiamo letto. Ho fatto una puntata, il 10, ho saltato il Senato a malincuore, però trovavo molto più interessante andare a Napoli alla scuola militare Nuziatella dove sono stato centinaia di anni fa e intrattenere un paio di centinaia di allievi giovani dai 17-18 anni sulle nostre problematiche, perché come al solito i ragazzi del liceo sanno poco o niente delle nostre vicende. Quindi ho parlato col cuore, era con me, anzi io ero con lui, con Marcello Veneziani, che ha fatto un intervento davvero alto e davvero, come dire, serio, senza sbavature. Cosa che ho cercato di fare anch'io, ovviamente mettendoci un po' più di passione, perché queste vicende a noi ci hanno toccato direttamente, a noi soprattutto quelli della generazione, degli ultimi nati a Zara. Ho cercato di raccontare quello che dovevo raccontare, cioè l'importanza che personalmente, anche come neopresidente dell'associazione, ritengo sia un nostro dovere, cioè non giocare in continuazione sulle cose che magari fanno più effetto in televisione, sulla stampa, cioè i racconti dettagliati e cruenti delle foibe, di Norma Cossetta, eccetera, ma quanto di mettere in evidenza l'elemento più importante, se posso dire, importante della nostra vicenda, che è l'esodo di 350.000 persone. Quella è una roba che durerà nei secoli e che in qualche maniera dovremo far conoscere meglio. Domani la nostra associazione avrà un incontro di giunta, Adim Libero Comune, e metterò in evidenza come la nostra missione per il futuro si concentri soprattutto su due punti, sui quali mi batterò e sui quali insisterò. Al di là di tutte le nostre magnifiche riunioni e i nostri interventi dovunque, io credo che il punto fondamentale sia dare importanza, attenzione e rilievo alle nostre comunità che esistono ancora in Dalmazia. Quello è un lavoro che tra i nostri, Marino fa benissimo, Elio Ricciardi fa altrettanto bene, ma bisogna che sia l'elemento, come dire, principale delle nostre attività, perché se lasciamo che la radice si essicchi, veramente non andiamo da nessuna parte, non seminiamo nulla per il futuro. Quindi su questo punto io sarò molto attento e dedicherò molto tempo e molte energie. Tra parentesi, siccome nella comunicazione e nell'editoria ancora conservo una buona memoria e qualche amico, ho chiesto alle più importanti case editrici italiane di mandare ogni volta che possono libri alla comunità di Zara, che poi penserà lei a diffondere l'asfalato e altrove, ma ho chiesto per favore di alimentare le nostre biblioteche nei territori con le cose che magari per loro possono anche sembrare superflue, ma che a noi danno molta importanza, prima perché ci fanno sentire vicini alle case editrici più importanti e poi perché possono diventare un momento di interesse per i cittadini che frequentano le comunità. Questo è fondamentale. Seconda cosa, e questo lo sto già facendo da tempo, e lo faccio anche grazie all'aiuto di chi può, in prima fila la Serena Ziliotto, dovremmo seminare forse più incisivamente e meglio tra le istituzioni che ci governano, ma non soltanto quelle che da secoli, da decenni ci sono amiche. Bisogna che noi andiamo a battere i pugni, no, poi battere i pugni, battere sulla porta e poi pacatamente, come abbiamo sempre fatto, cercare di allargare la cifra del consenso che noi da tempo abbiamo abbastanza diffuso, ma che dobbiamo moltiplicare. Quindi proprio con la Serena cominceremo una campagna, una battaglia di incontri, di incontri a tutti i livelli, ovviamente a supporto di quello che fa Federesuli, perché un'altra mia convinzione è che noi non dobbiamo disperdere le nostre energie in mille rivoli. Federesuli è quello che ci dovrà rappresentare meglio nel futuro, però come supporto a Federesuli credo che noi possiamo muoverci bene. Io raccomando sempre a tutti di evitare, come posso dire, personalismi, ricerca di visibilità, che ogni mattina che Dio manda in terra qualcuno apre un nuovo sito, calma su questo, perché veramente non abbiamo bisogno di mille voci, abbiamo bisogno di mille voci deboli, abbiamo bisogno di una o due voci forti, se no non andiamo da nessuna parte. Credo che in questo periodo abbiamo seminato piuttosto bene tutti quanti, perché avverto magari, sono un illuso, ma avverto un maggiore interesse nella nostra storia. Anche i quotidiani, come dire, indipendenti e le reti televisive nazionali ci hanno dato abbastanza spazio questa volta ed è uno spazio in crescita. Anche qua dobbiamo lavorare, incidere come possiamo sulle persone che conosciamo, crearci nuovi amici e fare in modo di non essere quelli, come dire, considerati, ecco, che il giorno del ricordo arriva a questi a piangere. No, abbiamo delle cose serie da diffondere, da seminare. Prima fra tutte, la nostra cultura, che su quella non c'è niente da fare. Io cito sempre Giuseppe Derita, il grande sociologo, che disse una volta una frase decenni fa che mi è rimasta impressa nella testa e che ripeto ogni volta che posso, che il rizoma butta ancora. Essendo il rizoma una radice che hai voglia a tagliarla, ma butta sempre, butta sempre e si rigenera sempre. E' questo che noi dobbiamo fare nei nostri territori. Anche se in diversi pesi o misure la comunità italiana e la nostra cultura così sono presenti e dobbiamo lavorare soprattutto lì dove abbiamo forse perso qualche anno anche a volte per beghe interne che sono un male che va estirpato al più presto, ma la cultura nessuno ce la toglie. Mi è appena arrivato ieri pomeriggio da Franco Luxardo, che ringrazio qui pubblicamente, l'ultimo libro di Monzali. E sono tutte opere che servono come tutte le opere di Marino qui presente. Non voglio fare il suo laudatore, però insomma quello che scrive, quello che fa, quello che racconta, soprattutto sul piano culturale, è qualcosa che poi rimane. Rimane e crea una consapevolezza anche in chi dice ma io tutte queste cose non le sapevo. Io sto cercando di diffondere a tutti quelli che rimangono stupefatti dalla vastità del fenomeno che ci ha colplito negli anni 40 e per i mi 50 degli estratti semplici di informazione basilare, perché se aspettiamo che lo facciano le scuole, insomma, hai voglia ad aspettare. Anche se il Ministero del MIUR ultimamente ci sta dando una grossa mano e così colgo l'occasione qui per ringraziare Caterina Spezzano che sta lavorando con noi da anni in maniera davvero egregia. Quindi forza a tutti, tutti quelli, soprattutto quelli più giovani, che devono veramente sostituire la generazione mia al più presto, in maniera consapevole, in maniera convinta, in maniera sempre serena, ma veramente con un coraggio che noi abbiamo avuto fino adesso, ma che abbiamo bisogno che qualcuno raccolga. Questo è un po' il pensiero che volevo trasmettere di quello che saranno le mie linee guida nei prossimi 4-5 anni e spero di trovarvi tutti d'accordo, soprattutto nel sentirci tutti una squadra, sentirci tutti proiettati verso un obiettivo e verso un risultato che non è il mio, quello di Marina o quello di Anna Maria, ma che è il risultato delle nostre terre, della difesa, delle nostre terre e che non riconquisteremo, certo come sta facendo quel matto di Putin in questo momento con le terre dove parlano russo. Beh, qui le terre nostre parlano con l'italiano dovunque, ma non ci viene in mente di mandare i carri armati. Lì lo può fare perché ha altri sistemi e altre regole. Comunque noi dobbiamo seminare, invece che i carri armati, cultura, tradizioni e attenzione alla nostra lunga storia senza dimenticare anche la storia degli altri. Mi fermo qua perché ho la gola secca e sono in macchina e quindi ti ritorno la parola Anna Maria, con piacere. Grazie. Grazie Tony, condivido al 2000% quello che hai detto, assolutamente, è proprio vero, l'unione è quella che dovremmo cercare di riavere. Allora, mettiamola così ed è veramente fondamentale, senza di quella poco si può combinare. Comunque è proprio vero così. Allora, grazie infinite. Tony, quando tu devi andare vai tranquillamente, anzi, ti ringraziamo fin d'ora, veramente sei caro come sempre, ti ringraziamo, aspettiamo la tua musica naturalmente. Sì, quella è garantita. Io sarò qui ancora un po', poi sparirò per il silenzio, ma vi saluto fino adesso, insomma, non me ne vado subito perché voglio rendere onore al grande Micic. Grazie. E mi te voglio saludare prima di iniziare, ecco. Grazie Marina. Non so, inizio io ora? Inizio tu, no, no, sei tu. Quanto tempo Anna Maria? Quanto vuoi, lo sai. Vabbè, insomma, infatti, due o tre ore. partiamo tra la mezz'ora, poi dopo se c'è qualche interazione, io vado intorno alla mezz'ora, ecco. Certo, io saluto Anna Maria Crasti, promotrice, e accanto il marito Claudio, simpaticissimo amico, veramente, promotrice di un'iniziativa che ha una continuità, una continuità che tocca temi interessanti che passano da Trieste, van giù verso l'Istria, toccano fiume, arrivano fino in Dalmazia e fin giù anche la Dalmazia Montenegrina. E quindi, insomma, veramente una bellissima iniziativa, continuità. Ecco, io, quello che ho potuto fare, ringrazio Tony Concina perché lo sento molto vicino, ecco, quindi, ma lo dico non perché adesso lui ha iniziato, mi ha ricordato, proprio perché umanamente è una persona che mi ha dimostrato sin da subito amicizia, ecco, e fiducia. Quindi di questo lo ringrazio, per me è un onore, ovviamente. Per noi dalmati, di origine dalmata, abbiamo sempre rispetto per chi ha più esperienza di noi e per chi ha visto e vissuto cose che noi magari figli di Esuli non abbiamo vissuto, però abbiamo assorbito dai nostri padri, dai nostri nonni. Come non ricordare, certo, in conclusione, Tony ha ricordato un dramma, no, che si sta verificando in Europa orientale, nell'Ucraina. Come non ricordare nel 1992 le bombe serbe su Zara o che distrussero la casa dei Micic nel 1992, quello che non hanno distrutto, perché noi siamo, non siamo zaratini, siamo dalmati dell'entroterra, morlachi, ne chiamavano morlachi, ci chiamavano morlachi, e scorse dure, come i zaratini, e dalmati, morlachi, fedeli a Zara, fedeli a Venezia e andati esuli. Ecco, mi hanno anche ricordati e vengono ricordati a Raduno dei Dalmati sempre coloro che sono dei dintorni, che portano cognomi in Itch, e che magari sono bilingui o trilingui come sono io, perché a Zara, voglio ricordare, c'è anche una bellissima etnia borgerizzana, albanese, cattolica, che ha dato il nervo dal 1725, da quando si è insediata il nervo, la città, sostegno, la città, e molti di loro sono morti in foibati in mare, tanti, tanti borgerizzani insieme a zaratini. Quindi, vedete, in poche battute mi sono richiamato a quello che ha detto Toni Concina, la ricchezza e l'eredità etnica, culturale, linguistica dei dalmati, un'eccezionale popolazione europea. Il titolo mio è impegnativo, perché la dalmazia in Europa, cioè, ci vuole veramente, ha detto Toni, non basta forse nemmeno due, tre ore per poter dare sfogo alla passione che ci muove, no? E qui voglio ricordare, quando parlo di passione, l'amica Adriana Ivanov, Danieli, che è metà borgerizzana come sono io da parte di madre, metà borgerizzano, che lei chiama in un suo libro Istria, Fiume d'Almazia, le terre d'amore, no? E veramente terre d'amore, perché sono sicuramente l'amore che ci fa parlare oggi, che ci dà il coraggio di, come ha ricordato Toni, molto bene, la grave cesura dell'esodo, una immane tragedia. E ci fa parlare bene, terre d'amore, perché è l'amore che ci fa parlare, l'amore che ci spinge per questa terra, ma per la nostra cultura, per la nostra lingua, la nostra spiritualità, un insieme di ricchezze, di ricchezze, che i regimi ditatoriali all'epoca fascista o il nazionalcomunismo jugoslavo non hanno saputo cogliere, non hanno saputo imparare da noi. Ecco, io ho la pretesa alla fine di questa mia conferenza di dire a chi ci ascolterà, ma di lanciare un messaggio agli italiani, agli europei, seguite i dalmati, come dice l'amico Tony, presidente dell'Associazione Dalmati Italiani nel Mondo, libero comune di Zara, in esilio, seguite i dalmati e così gli amici striani e fiumani, perché insieme portano con sé veramente messaggi che non sono solo di dolore, di rassegnazione, e ne abbiamo tutte le ragioni anche di dolore e di profonda rassegnazione, però sono messaggi di speranza, e anche tutto questo nasce dalla grande cultura. Io, ovviamente, il mio tema è dedicato alla Dalmazia, ma possiamo dire agli italiani che ci ascoltano che non hanno origini istriani, fiumani e dalmate, gli istriani, fiumani e dalmate sono molto coesi, molto vicini, culturalmente, linguisticamente, sin dai tempi dell'antica Roma. Ecco, diciamo, se gli istriani avevano un linguaggio vernacolare chiamato istrioto e veneto, i dalmati avevano il dalmatico linguaggio e veneto. Ciò significava che i dalmati, come gli istriani e così quarnerini, fiumani, dopo la caduta dell'impero romano, dopo le varie vicissitudini che accaddero nel Medioevo e quindi l'arrivo delle popolazioni slave nei dintorni di Zara, di Spalato, ministri un po' più tardi arriveranno, con questo arrivo noi abbiamo delle popolazioni nelle città costiere che parlano delle lingue autotone derivanti dal latino, lingue neolatine. Noi abbiamo questa possibilità, questi studi che sono stati sviluppati per poter oggi parlare in maniera quasi confidenziale, con facilità di questi fatti, negati, devo dire, spesso dalle interpretazioni nazionaliste e in questo caso anche croate o slave in generale, abbiamo studi importantissimi del Matteo Bartoli, ad esempio che è un grande filologo, un grande studioso di linguistica che ci regala un'opera incredibile, Das Dalmatische, composta, pensate, in lingua tedesca, perché il Bartoli, cittadino austriaco, andò a studiare a Vienna. Dopo venne tradotto il grande Aldo Duro, grande zaratino e io ho avuto l'onore di conoscere i tempi dell'università e spesso mi chiamava da lui per parlare di Dalmazia in quanto io studiavo anche slavistica in quel tempo e ho appreso tante belle cose da Aldo Duro, tante belle testimonianze, nonché molto sapere anche lui era la Treccani, uno dei maggiori studiosi e proprio lui fu grande, sempre divulgatore, grande ponte con gli slavisti e con i latinisti, il ponte che è la Dalmazia, il ponte che è anche l'Istia naturalmente, il ponte che è fiume verso il mondo orientale, europeo orientale. Questo è un primo dato di fatto che ci tengo a sottolineare per chi ci ascolta, perché sono radici profonde ciò che sto raccontando, sono studi veramente importantissimi pubblicati nelle più importanti accademie d'Europa. Purtroppo per lungo tempo insieme alla tragedia dell'Esodo sono rimasti chiusi nelle biblioteche, negli archivi, non incuriosivano più i giovani studenti, perché quello che dico in queste conferenze, ormai anche tu Anna Maria ne fai tante, ne sarò arrivata, nemmeno le conto più, ma questa è una fortuna, è una fortuna non contarle più. Diciamo che con l'Esodo, con la rimozione, si rimuovono, si sono rimossi duemila anni di civiltà, di cultura. Nei manuali scolastici non solo non si trovava fino a dieci anni fa una pagina sull'Esodo degli istriani fiumali dalmati, ma anche sono sparite pian piano tutti quei riferimenti culturali legati al rinascimento, legati anche alla civiltà medievale, perché se andiamo a leggere noi forse troviamo Zara nel 1202, distrutta su ordine dei veneziani dai crociati che dovevano andare a liberare Bisanzio, a conquistare Bisanzio sostanzialmente, non liberarla, ma conquistare Bisanzio ormai in grave crisi. Ecco, una serie di studiosi, tutta una serie di accadimenti che sono legati fortemente a una parte d'Italia che si esprime e che è espressione con la Repubblica di Venezia, di Venezia, secoli, non solo di dominio, lo stato da mar fondato dall'altra parte dell'Adriatico, ma di civiltà, economia, cultura, incontro tra le genti. Noi vediamo che in Dalmazia si sviluppa sino a partire dal Medioevo ma soprattutto nel Rinascimento perché la Dalmazia è una sorta di culla rinascimentale e si distingue e che fa sviluppare questa terra dal 1300, 1400, 1500 la distanzia sempre più dall'entroterra balcanico e qui che nascono diciamo la caratterizzazione di civiltà storico-letterarie che divide in due mondi la Dalmazia legata al mondo occidentale tramite appunto la presenza della Repubblica di Venezia la Repubblica di Venezia non è solo presenza militare ma è commercio è sviluppo è università i Dalmati andavano a studiare a Padova una delle più importanti università ma non solo la Repubblica di Venezia spesso noi diciamo non gli studiosi ma diciamo nella diaspora Dalmata spesso ci dimentichiamo in qualche modo un po' della Repubblica di Ragusa la ricordiamo sì la Quinta Repubblica Marinara però spesso chi ricorda che la lingua ufficiale nella Repubblica di Ragusa era la lingua toscana per esempio sarebbe da dire a Montanari che si trova a Siena se gli balza per la testa una questione del genere cioè i più grandi studiosi e anche faccio riferimento a Filippo De Diversis rettore di un'importante scuola di Ragusa Nila da Lucca ecco già leggendo De Diversis e le sue opere si comprende come il Toscano entra a Ragusa come lingua ufficiale mentre il Veneto si sviluppa ovviamente Spalato Cattaro addirittura ecco fino giù alle bocche di Cattaro Zara poi Zara che rimarrà italianissima fino quell'italianità che fu distrutta da 54 bombardamenti aerei ecco con l'estrema violenza se ti posso scusa interrompere un secondo e ricordare i miei lontani parenti De Serragli che sono stati una famiglia importantissima a Ragusa venivano da Firenze e sono ricordati a Firenze con una strada loro dedicata via De Serragli ecco vedi tu e Tony noi sicuramente Ragusa è molto importante anche vi dirò anche vabbè nello sviluppo della vicenda la Repubblica Ragusea è molto molto importante diciamo lì si sviluppa anche in maniera particolare anche un umanesimo croato nasce da dove nasce l'umanesimo croato attraverso la frequentazione delle università di Siena dell'università di Padova che sviluppano questi autori croati come Marco Marulo o Marulic lo stesso Marino D'Arsa Dersic sviluppano poemi in lingua croata già in quel periodo per dire quindi un influsso però non nascono in antitesi ma nascono insieme in una terra che trova un equilibrio tra le gente e i popoli in quel periodo e che è una terra che diventa un faro di civiltà ancora di civiltà molto importante perché la Dalmazia si trova da sempre al confine come l'Istria certamente ma parlando di Dalmazia mi riferisco naturalmente strettamente ora alla terra di Dalmazia una terra sempre di confine non solo a partire dall'antica Roma ma sempre sarà così nel Medioevo così sarà poi in maniera drammatica dopo il 1389 quando i turchi l'impero ottomano invade i Balcani nella battaglia di Kosovo-Poglie muore il fiorfiore della nobiltà serba croata ma anche i veneziani erano andati a combattere contro i turchi e vengono sconfitti da quel momento la Dalmazia per oltre 250 anni sarà sempre sotto il pericolo dell'esercito ottomano tutto è vero qui faccio un salto anche a un fatto biografico siamo ad una conferenza tra amici ma anche persone che non conosco che ci ascoltano è importante anche la biografia i dati della propria famiglia i Micic vennero nei dintorni di Zara 4 km da Zara per l'esatezza a popolare i dintorni della torre di Malpaga della torre di difesa Venezia disse ai Micic insieme ad altri clan venuti dall'interno della Bosnia questa è la lancia questa è la terra difendi la terra e la terra sarà tua è così che i Micic e tanti altri sono diventati veneziani sono diventati dalmati e sono rimasti fedeli sempre alla cultura occidentale quando ancora nemmeno si immaginavano del fascismo nemmeno si immaginavano del nazionalcomunismo jugoslavo è così che la gente dell'entroterra Zara iniziò iniziò anche a dare vita alle culture all'agricoltura c'era stata la peste voi sapete benissimo i promessi sposi lo narrano la grande peste dal grande Manzoni e questa colpì tutta l'Europa colpì anche la terra dalmata e anche l'Istria ed ecco che in Istria anche come in Dalmazia arrivano famiglie dei morlacchi dall'interno della Bosnia di anche famiglie croate un insieme questo croggiolo di popoli che vengono da quella zona il melting pot jugoslavo in tempi più recenti che noi ricordiamo questa terra diventa punto di scontro punto di lotta ma nello stesso tempo si riesce sempre nelle città a sviluppare economia commercio tuttura di altissimo livello William Shakespeare nel mercante di Venezia The Merchant of Venice ricorda le Argosian che le Ragusee chiamavano Argosian pensate le navi Ragusee che commerciavano con lontano Portogallo arrivavano fino in Gran Bretagna venivano ricordate da William Shakespeare nel suo The Merchant mercante di Venezia dire quanta cultura quanto senso di Dalmazia c'era all'epoca in Europa era di civiltà di luce e non di contrasti nazionali o nazionalisti come purtroppo l'abbiamo conosciuta nel novecento purtroppo perché alla parte italiana è andata male molto male soprattutto ai Dalmat italiani è stata una tragedia trovarsi nel vortice degli avvenimenti ma ci arriverò pian piano io sono arrivato molto velocemente al rinascimento nel rinascimento Dalmata è sicuramente una delle come posso dire dei periodi storici che dovremmo sempre più rivalutare se vogliamo instaurare un dialogo con la terra di origine nostra qui colgo l'occasione del discorso di Tony del programma di Tony possiamo lavorare e cercare un dialogo con studiosi croati proprio su questo campo umanesimo e rinascimento che unisce una grande civiltà che ha unito l'Europa dalle fiandre alla corte di Napoli da Durazio in Albania e a Padova e così via senza annunciare la Germania senza annunciare l'Austria secondo me lì si possono trovare temi culturali che ci portano non a unirci rimarremo ognuno della nostra cultura civiltà e orgoglio ma dialogare quello sì quello sì dialogare perché il dialogo dà sempre la possibilità di sviluppo ecco di sviluppo culturale dire nell'illuminismo la Dalmazia ad un certo punto nel 1700 la stella di Venezia inizia a declinare arriviamo al 1797 al trattato di Campoforma ebbene sì i turchi sono sconfitti perché i turchi vengono sconfitti nel 1683 a Vienna da una coalizione guidata dal grande re polacco Jan Sobievski e devono arretrare allora questo arretramento è salutato dai dalmati italiani proati e anche serbi perché qua va ricordata anche l'etnia serba giunge in Dalmazia intorno al 1530 nella regione di Tenin che noi chiamiamo loro chiamano Knin e in altre zone l'entroterra Spalato si insediano più di 200.000 serbi ortodossi poi li ritroveremo più in là raccontando i fatti etnico-nazionali che poi nell'ultima guerra in ex Yugoslavia e nel 1797 vede cadere Venezia trattato di Campoforma e poi vediamo l'avvento delle province o meglio di Napoleone e Bonaparte che in un primo tempo riconosce l'Istria e la Dalmazia al regno d'Italia in un secondo tempo per una visione strategica militare di espansione verso l'Europa orientale badava i Balcani ecco la Francia e Napoleone cercava più espansione possibile ecco che nascono le province liriche ed ecco che per gli italiani dalmati qui passo alla politica scusatemi se passo dalla cultura alla civiltà alla politica però ovviamente i due temi non sono in contrasto ma si compensano ecco in questa trattazione almeno spero ecco di riuscire a darvi il senso di quanto poi vorrò andare a concludere ecco che noi vediamo che con la nascita delle province liriche c'è uno sminuimento della della componente italiana no? è un'apertura verso il mondo slavo infatti nascerà anche il movimento dell'ilirismo e dall'ilirismo arriveremo poi allo jugoslavismo ecco questo naturalmente nel 1800 questi movimenti hanno un carattere risorgimentale i popoli comunque croato serbo agognano all'indipendenza Mazzini è un faro per tutti Giuseppe Mazzini è un faro per i dalmati come Niccolò Tomaseo il quale Niccolò Tomaseo grande studioso ma anche grande patriota a lui dobbiamo il primo dizionario dei sinonimi e contrari della lingua italiana ecco che noi abbiamo Niccolò Tomaseo e Mazzini si porta avanti degli ideali molto molto importanti di autonomia di libertà dei popoli di democrazia e questi ideali contagiano anche gli slavi del sud sicuramente e così contagiano mezza Europa Mazzini parlerà di giovine Europa vedrà l'Europa in un momento in cui veramente chi pensava che oggi noi stiamo parlando di Europa abbiamo una bandiera con le stelle europee e e all'epoca solamente dei visionari potevano immaginare qualcosa che poi è accaduto certo in Europa noi viviamo in Europa non perfetta ma un organismo che ha una solidità ha comunque una grande ragione d'essere ci ha donato 75 anni di pace dalla seconda guerra mondiale in poi almeno questo è un elemento importante secondo me secondo la valutazione mia e anche dei padri fiumani qui che mi hanno accolto e che abbiamo iniziato 30 anni fa il dialogo europeo con la città di fiume Europa siamo figli di un continente abbiamo culture che nascono dal profondo ho cercato solamente con l'esempio del rinascimento dell'umanesimo ma potrei citare il cristianesimo gli antichi testi sacri il grande Tommaso Arcidiacono i legami che io trovo qui a Roma al Battistero di San Giovanni Laterano dove ci sono le reliquie dei Santi Dalmati il padre Flaminio Rocchi una volta eravamo ragazzi ci portò a fare una gita al centro e ci spiegò che nel Battistero di San Giovanni ci sono le reliquie di San Venanzio di San Loimo di tanti Santi della Dalmazia e per noi ci sentivamo importanti sin da ragazzi ad apprendere questa importante storia queste importanti testimonianze vivendo al villaggio Giuliano i padiglioni insomma in una situazione di emarginazione sociale chiamiamola sì di emarginazione sociale non solo culturale ebbene segni della Dalmazia ce ne sono molti in Italia tantissimi abbiamo il grande scienziato nominato il Settecento l'Illuminismo come non nominare Boscovic grande fisico che anche oltre che a Milano qui a Roma ha insegnato la sapienza ancora il collegio dei Gesuiti qui a Roma nella chiesa di Sant'Ignazio lo ricorda ma i Dalmati sono presenti ovunque ai massimi livelli in tutte le epoche possiamo dire ma ritorno al risorgimento perché ovviamente il tempo corre a Tomaseo a Mazzini e vediamo che in Dalmazia a fine Settecento abbiamo anche Ugo Foscolo per esempio il quale amava sempre dire io fui educato fra Dalmati dalla sua Zante Zacchintos andò con la famiglia Spalato e amava sempre dire in quel collegio aveva frequentato con Francesco Carrara con Tomaseo con Francesco Zuppè De Melli grande musicista Roberto Visiani Giovanni Maver frequentavano questo liceo insieme a Frane Babic Luca Bottic Jakov Gotovac grandi studiosi croati Dalmati insieme studiavano insieme certo già in quell'epoca nascevano le divisioni nella borghesia italiana e borghesia croata perché si era formata in gran parte della Dalmazia di fuori di Zara un'interessante borghesia croata che aveva pure un certo capitale armavano le navi e quindi ecco che nascono i dissidi di carattere nazionale politico che poi ritroveremo a esasperarsi nell'epoca delle dittature e delle ideologie totalitarie del Novecento ecco nell'Ottocento i Dalmati la questione nazionale inizia a dividere le coscienze ma non del popolo in generale la popolazione continua a sposarsi i matrimoni misti sono all'ordine del giorno i nostri cognomi lo indicano le persone vivono nell'Ottocento comunque una vita tranquilla nelle città ci sono scontri a carattere politico ogni tanto qualcuno viene malmenato il povero Arturo Colautti grande poi tra i primi esuli politici insieme a Vicenzo Duplanci ci verrà abbastonato a spalato a sangue dopo la caduta del grande emirabile podestà Antonio Baiamonti nel 1882 lì finisce il sogno d'Almata Genso Bettiza in quell'epoca inizia a finire il sogno d'Almata perché l'aspirazione nazionale diventa sempre più forte perché l'aspirazione alla propria patria al rispetto come diceva Mazzini io rispetto la mia patria però altri devo rispettare la patria degli altri ad un certo punto questi concetti sono venuti a cadere e ha preso sempre più corpo quella teoria quelle teorie che sono frutto di pensatori tedeschi von Klopp che mi viene in mente in questo momento grande ideologo del futuro nazionalismo tedesco ecco che in Dalmazia andando anche a studiare nelle università austriache e tedesche inizia a svilupparsi un certo sentimento lo chiamiamo sentimento politica di carattere nazionalista un nazionalismo che è esclusivista e che non lascia spazio all'altro e potete immaginare una terra come la Dalmazia oppure l'Istria la presa di posizione di queste ideologie portano alla spaccatura dapprima nelle nostre famiglie nelle nostre comunità e poi a livello politico e poi a livello bellico cioè quando poi arriveranno gli appuntamenti bellici di grande importanza bisognerà schierarsi e quindi ecco le tragedie no? Diciamo che la cultura Arturo Colauti anche lui librettista poi Tony Concina è più bravo di me per quel che riguarda la storia della musica sicuramente grande librettista grande autore di opere direttore del mattino di Napoli è dimenticato ecco a Napoli quando andiamo dobbiamo ricordare Arturo Colauti questa è una possibilità ecco mi hai nominato l'Annunziatella eccetera nominare alcuni Dalmat illustri che hanno trovato diciamo a prodo anche a Napoli lo sapevo e questo lo farò la prossima gita a Napoli lo sapevo di Colauti napoletano direttore del mattino e con questo purtroppo ti saluto ti ringrazio devo scappare grazie Anna Maria grazie a te Tony ciao ecco quindi diciamo siamo arrivati alla fine del 1882 siamo 1884 siamo verso la fine del Novecento ecco che il sogno Dalmat degli autonomisti quello di veder convivere in pace le varie etnie inizia a sgretolarsi a sgretolarsi ecco io con il prestaggio di Vicenzo Duplanci Arturo Colauti ma anche di altri Dalmati che devono raggiungere l'Italia inizia a prendere un come posso dire posizione anche in grandi studiosi Dalmati devo ricordare a fine Novecento iniziano a nascere la generazione dei Cipico dei Vitaliano Brunelli dei Dudan persone che poi si distingueranno nel Novecento sia dal punto di vista scientifico accademico universitario ma anche politico perché un buon Dalmata deve difendere anche la propria identità deve difendere la propria comunità deve difendere a un certo punto la propria vita il proprio lavoro le proprie case questo succede nell'epoca nel Novecento di cui andrò poi a narrare tutta questa grande cultura tutta questa convivenza secolare inizia ad essere sacrificata sull'altare del nazionalismo e da una parte su un altare anche diciamo comprensibile quello della creazione degli stati nazionali è anche comprensibile che i Dalmat italiani agognino ad un certo punto il regno d'Italia ed ecco che questa generazione che ho nominato del cipico dei tacconi iniziano a vedere nell'Italia una una possibile soluzione sognano il regno d'Italia forse ci difenderà dal terrore dalle aspirazioni pur legittime di ogni popolo anche quello croato-sloveno all'autodeterminazione ma che però in Dalmat è così difficile da raggiungere così anche in Istria ovviamente l'abbiamo visto così difficile ed ecco che i Dalmati continuano qui mi viene anche in mente un grande storico Giuseppe Praga che poi è andato esule in Veneto iniziano ad approfondire molto gli studi storici sono formidabili ci sono studi che noi conserviamo anche qui nella biblioteca della società dei studi fiumani io ogni tanto li vado a rileggere a valutare condensano profondo profondo sapere e perché questo perché i Dalmati sono italiani sono in minoranza sono maggioranza sulla Zara ma a Spalato a Ragusa in Cattaro Sebenico sono minoranza e devono difendersi con la forza della tradizione della civiltà dell'appartenenza in quell'epoca ancora parlo dei primi novecento ma nessuno poteva immaginare gli esodi le pulizie etniche i campi di sterminio nazisti i campi gulag di Stalin in quell'epoca nessuno poteva immaginare che la civiltà europea mondiale potesse arrivare a questioni veramente che ancora oggi ci domandiamo come una Germania patria di Kant di Hegel e di tanti 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 filosofi abbia potuto dare fogo all'ideologia nazista questo ancora forse non ce lo siamo riusciti nessuno di noi a spiegare certamente la prima guerra mondiale fa sì come noi andiamo nelle scuole spieghiamo la prima guerra mondiale e la guerra di redenzione grazie a Dio Ascoli ebreo goriziano conio questo termine di redentismo che è diventato famosissimo perché anche a livello internazionale quando un popolo lotta per la sua libertà viene detto movimento irredentista irredentista irredentism si legge nei manuali inglesi o americani ha avuto fortuna questa parola non la dobbiamo a un ebreo goriziano e quanto hanno sofferto poi i nostri ebrei a Gorizia a Trieste a fiume la deportazione l'uccisione noi qui alla società dei suoi fiumani ogni anno organizziamo la giornata della memoria per ricordare proprio i nostri ebrei fiumani che poi quelli che si sono salvati sono andati esuli non potevano tornare nemmeno più sotto la Iugoslavia di Tito che li aveva nazionalizzati bene vedete le assurdità le difficoltà della storia e allora per la Dalmazia vado avanti un altro pochino ecco vedo che magari altri 5-6 minuti posso utilizzarli come arriva Zara e l'isola di Lagos al Regno d'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale con il Trattato di Rapallo 12 novembre 1920 dopo l'avventura l'impresa di D'Annunzio cercava di far sì che parti della Dalmazia più estese passassero all'Italia in ottemperanza al Patto Segreto di Londra in quanto l'Italia entrò in guerra con la promessa in caso di vittoria di acquisire non solo l'Istria ma gran parte della Dalmazia con Sebenico ecco fino a Trau e isole più importanti di Lesina di Cursola patria di Marco Polo ecco posso anche dire questo non devo dimenticare ma sapete io ho dimenticato tanti nomi che mi servire cioè avrei bisogno di un quarto d'ora solo per elencarli tutti l'importanza di tanti Dalmati illustri Polo era veneziano naturalmente però la famiglia aveva delle radici interessanti proprio nell'isola di Cursola dove c'è la casa dei Polo per esempio i croati però contestano dicono che Marco Polo era croato e va bene queste sono interpretazioni nazionaliste che non hanno alcun fondamento storico e quindi ecco che la Dalmazia rimane sotto il regno di Jugoslavia dopo il 1920 nasce lo stato dei selvi croati sloveni da quell'antica idea di lirismo di jugoslavismo nasce un regno che però non fa felici i croati perché è un regno governato da un re monarca serbo impone una dittatura ed ecco che c'è un primo esodo quando si parla degli esodi degli sloveni dei croati dopo il 1918 dall'Istia da quelle zone c'è un certo numero alcune migliaia ecco non sono i centomila che vengono diciamo proclamati da studiosi sloveni ma sicuramente un 15 20 mila di sloveni croati si sono spostati per ragioni legate al mutamento di confine territoriale perché ancora in quell'epoca non arriviamo alla seconda guerra mondiale non c'è il concetto di pulizia etnica o ideologica le persone si spostano per tutta una serie di motivi così anche in Dalmazia però i motivi comunque poi sì poi sono legati anche a politiche di assimilazione che il fascismo adotta nelle terre diciamo redente a Venezia Giulia però nello stesso tempo i dalmati rimasti sotto il regno di Jugoslavia subiscono quelle politiche di assimilazione da parte di Jugoslava cosa consistono la chiusura delle scuole in lingua italiana per esempio allora spesso si parla della chiusura delle scuole in lingua croata solo da parte del regime fascista ma non si parla anche di ciò che accade dall'altra parte e i dalmati sono i testimoni veramente di questi fatti che accadono dopo il 1920 c'è un primo esodo che si può calcolare dalle 8.000 e 10.000 persone i quali cercano di raggiungere Zara Trieste e tanti adesso è andato via Toniconcina tanti verranno a Roma e a Napoli io ogni tanto qui a Roma incontro ad esempio il giornalista Rai Marco Besmalinovic loro sono dalmati venuti al 1920 21 qui a Roma e la romana non parla in dialetto come noi ancora però ne incontro tanti di dalmati che sono venuti esuli già dopo il 1920 ecco questo lo dico perché parliamo di Dalmazia parliamo di esodi va detto non va mai dimenticato l'esodo dalmata quando si parla anche di esodo sloveno croato dopo la prima guerra mondiale e negli anni venti la Dalmazia ovviamente gran parte della Dalmazia è sotto la regno di Jugoslavia quindi vi ho parlato di esodo quindi ovviamente si può immaginare che la componente etnica italiana e la cultura italiana subisce una grande ferita insomma gravi colpi vengono distrutti i primi leoni dalla fortezza di Traù noi qui al museo di fiume al primo piano abbiamo la ricostruzione di un leone veneto che era nella fortezza di Traù dono dei dalmati agli amici fiumani un bel calco in gesso e inizia questa opera di rimozione della presenza in questo caso veneziana ma con la venezianità si colpisce l'italianità ecco e quindi vengono chiuse le scuole quindi ecco essere dalmati non è certamente facile sotto il regno di Jugoslavia e ne rimangono molto molto pochi uno che rimane e che io ho avuto l'onore da piccolino di conoscere ma ero proprio piccolo avevo 4-5 anni papà un giorno mi dice questo se il senatore Antonio Tacconi Antonio Tacconi viveva qui al villaggio Giuliano e lui rimase sotto a spalato non andò via per difendere i dalmati italiani e non lasciare la parte jugoslava il predominio culturale quantomeno capite linguistico e lui poi venne esul e qui si salvò è una persona che non fece mai del male a nessuno lo arrestarono su a Trieste ma poi gli ugoslavi lo rilasciarono e lui ha lasciato un grande lavoro qui a Roma al senato c'è la biblioteca Cipico Bakotic che la dobbiamo a lui e io mi ricordo ero piccolino lui andava col pastano scuro ingobbito anziano molto e andava al senato dal nostro villaggio Giuliano fatto di padiglioni e grazie a lui si è salvata tanta 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 cultura dalmata e qui lo voglio ricordare proprio perché ancora piccolino io la sua ombra la sua sagoma me la ricordo come mi ricordo anche che succede e poi già ne ho detto prima ho parlato di bombardamenti Antonio Concina ne ha parlato e avviene che nella seconda guerra mondiale l'Italia si schiera con Hitler e nel disegno di egemonizzazione dei Balcani Germania Italia pensano bene di ridisegnare l'ordine politico in Jugoslavia in Grecia in Albania in Jugoslavia in maniera particolare diciamo occupano la Jugoslavia monarchica per far sì che fare in modo che i croati possano costituire un proprio stato nazionale questi sono i fatti un po' particolari che poi non vengono raccontati bene da una parte l'aggressione a Jugoslavia portò liberazione ai croati anche se l'Italia pretese dovettero pagare un prezzo ai croati un pezzo di Dalmazia Falato Isole questa parte qui pretese per quel che riguarda la Dalmazia però i croati poterono allargare il proprio stato diventare indipendenti del triplo ottenendo tutta la Bosnia e Herzegovina questo non è che lo dico per giustificare una guerra d'aggressione le guerre d'aggressione non sono mai giuste però in questo caso portarono la libertà al popolo croato che però questa libertà venne gestita da una nuova dittatura dai nazionalisti di Ante Pavelic che si scatenarono furiosamente contro i serbi uccisero più di 200.000 serbi nei campi di Asenovac e altri campi della morte iniziò questa lotta etnica tra queste popolazioni ebbene la Dalmazia non conobbe fino all'8 settembre 1943 diciamo i disastri particolari della guerra invece col crollo diciamo la militare dell'Italia l'annunzio dell'armistizio avvenuto l'8 settembre da parte di Marciallo d'Italia a Badoglio inizia inizia periodo durissimo ecco per tutti i dalmat italiani per la loro stessa vita c'è pericolo la cultura quindi come si manifesta si inizia la cittadizzare a essere bombardata fortemente viene rasa al suolo praticamente rimangono in piedi qualche chiesa che poi verrà restaurata oggi sono ancora belle la chiesa di San Simeone la chiesa di Santa Maria il Duomo di San Donato però la città viene praticamente rasa al suolo la chiamiamo la Dresda dell'Adriatico in diaspora e moriranno tanti tanti Zeratini Dalmati morirà la mia nonna croata delle isole Anastasia Franov di 41 anni e tanti furono i morti anche a Borgherizzo nei dintorni e Zeratini rimasero seppelliti sotto le macerie più di 2000 persone è lì che iniziò l'esodo durante la guerra degli Zeratini e quelli che poi rimasero quando arrivarono il 31 ottobre del 1944 gli Jugoslavi occupano militarmente Zara nel giro di qualche anno coloro che si salveranno dalle purghe dagli infoibamenti in mare oppure negli intorni verranno uccisi nelle cave dei dintorni di Zara più di 300 Zeratini e politica del terrore insomma tutto ciò che accadrà in Istria che accadrà a fiume che avrebbero voluto gli Jugoslavi far anche accadere a Trieste a Gorizia sono riusciti solo per 40 giorni con grave danno ecco con questo sto raccontando la nemesi la nemesi dei dalmati legati all'Italia perché c'erano dalmati anche slavi legati all'Italia io con questa parola voglio ricordare anche i dimenticati è una popolazione che ripeto con lunghi anni di storia di intrecci di etnia di cultura di civiltà che rimane sconvolta dalla seconda guerra mondiale e poi soprattutto dalle decisioni prese a Parigi il 10 febbraio 1947 trattato di pace col quale l'Italia dovrà accedere praticamente tutto anche Trieste diventerà territorio libero in Trieste non sarà Italia per tornare all'Italia Trieste dovrà aspettare il 1954 5 ottobre i bersaglieri entrano a Trieste dopo il memorandum di Londra quindi ecco che nasce la diaspora questa cultura questa civiltà non muore non muore cioè i dalmati ecco gran parte anche essi circa l'80% finirà nei campi profughi un altro 20% riuscirà a trovare parenti che li ospitano nelle case oppure troveranno avendo lavoro nelle pubbliche amministrazioni troveranno ecco dei quartieri dei quartieri direi e quindi riprende una vita molto dolorosa ecco dolorosa ed un fatto importante perché io qui naturalmente ho posto il punto sulla cultura sulla civiltà non muore questa civiltà questa cultura perché perché i dalmati come Giuseppe Praga Alessandro Dudan Oddo Netalpo ecco scusatemi non posso citare tutti ma ne sono veramente tanti ecco ho citato Antonio Tacconi ma tantissimi ecco che si sono fermati in Veneto anche il bravo Giulio Valeri o Giorgio Varisco che portano avanti la società Dalmata di storia patria l'archivio museo della Dalmazia poi tutti Franco Luxardo la famiglia tutti coloro che hanno dato vita al libero comune di Zara e Nesilio e Rismondo e Ziliotto ecco scusate coloro che mi sentono mi devono scusare ma dovrebbe sarebbe giusto nominarli tutti ma devo concludere quindi diciamo che grazie a queste persone e grazie a una serie di maestri di persone meno note di semplici operai mio padre era operaio custodiva sempre io dove ho letto le prime storie della Dalmazia non a scuola non all'università ma nel comodino di mio papà che pur essendo operaio aveva la storia di Odone Talpo cronaca di Dalmazia aveva i libri di Antonio Tacconi aveva la rivista Dalmatica ecco questa è la nostra gente spesso si pensa agli operai alla gente proletariato che non badano che non hanno interesse beh devo dire che gli striani Fiumani e Dalmati hanno questa peculiarità che anche gli operai anche le tabacchine un libro di storia a casa lo avevano sempre perché è parte della loro identità è parte della loro difesa e questo ce lo invidiano tutti devo dire perché dopo tanti anni pur esuli pur dimenticati pur anche se la storia dei Dalmati come quella degli striani viene negata questa Nemesi iniziata con la seconda guerra mondiale è proseguita nella pace per lunghi anni lungo esodo come era il popolo ha definito giustamente lungo esodo dieci anni ci vollero affinché gli Jugoslavi si liberassero quasi totalmente della componente italiana con la vessazione la repressione le poibe la nazionalizzazione che significa appropriazione indebita dei beni degli esuli con il memoricidio con il genocidio culturale ecco tutto questo hanno subito i Dalmati assieme ai fratelli istriani e Fiumani e anche giunti poi in Italia ripeto sono riusciti a difendere quello che fa parte qualcosa che è innaturato in un popolo la propria cultura la propria cultura e civiltà con l'archivio museo della Dalmazia con le società d'almata di storia patria con altre biblioteche importanti che custodiscono come la nostra qui negli studi fiumani abbiamo cinquecentine della Dalmazia devo ricordare le regole grammaticali di un altro Dalmat Gian Domenico Fortunio le prime regole grammaticali della lingua italiana che sono state pubblicate ai primi del cinquecento noi abbiamo la cinquecentina originale e tutti tutti queste testimonianze ci aiutano a noi io sono figlio di esuli ma mi aiutano con i più giovani anche Anna Maria è una grande missionaria in questo senso con le scuole siamo missionari veramente di cultura e civiltà e dobbiamo trasmettere a questi giovani e possiamo trasmettere a questi giovani io penso non solo la nostra esperienza i nostri ricordi in base anche differenti tra generazioni e generazioni ma simili ma simili e abbiamo la forza di incuriosire in questo modo di di stupire la meraviglia di dire ma come siete finiti non ci siete più eppure voi siete qui cioè avete con voi testimonianze eredità storiche civili testimonianze incredibili che fanno parte della nostra cultura comune ecco questo è il giorno del ricordo vado a concludere questo è il giorno del ricordo ci ha dato questa opportunità non solo di ricordare un'immane tragedia senza eguali che in Italia è accaduta e l'hanno pagata gli istriani fiumani dalmati il prezzo di una guerra ingiusta è persa ma non solo questo ma portiamo veramente all'Italia un valore importante io devo ringraziare qui il presidente Mattarella vado a concludere per la sua azione di dialogo io sono un fautore del dialogo io ho iniziato questa avventura alla società dei suoi fiumani perché i padri fondatori hanno scelto il dialogo nel 1990 dicendo dobbiamo tornare Leo Bagliani Amleto Ballarini Pannistelli e tanti altri mi hanno accolto 20-30 anni di differenza con loro mi hanno accolto perché io volevo dice volevo volevo dare una mano e qua Archivio Museo mi dava questa opportunità di tornare molto importante quindi sono grato al presidente Ciampi al presidente Napolitano al presidente Mattarella perché hanno sempre sostenuto questo dialogo culturale dobbiamo per forza dialogare perché se no siamo finiti se no la nostra minoranza italiana e qui la nomino di circa 25.000 italiani rimasti rimangono soli isolati lì ancora c'è molto nazionalismo e noi siamo portatori di cultura europea di identità liberi dai gravami del passato ecco questo voglio dire anche a nome dell'associazione che rappresento e voglio anche in ultimo ringraziare il ministro dei beni culturali Franceschini senza andare ad emendamento ha rifinanziato l'archivio museo storico di Fiume per quello che è giusto e per quello che era scritto nella legge del giorno di ricordo e che negli anni era stato quasi depauperato e questo io ufficialmente devo ringraziare perché mi ricollego a Toni Concina che facciamo buona cultura non c'è partito che tenga esiste il partito della civiltà dell'umanità e noi possiamo ben rappresentarlo e qui lo dico concludo davanti a Anna Maria Crasti non perché mi ha invitato perché organizza queste cose però io e lei abbiamo un comune spirito che mi consenti è proprio questo qui siamo coscienti di essere portatori ambasciatori di un patrimonio universale universale ecco se siamo in grado di trasmettere questo saremo istriani Fiumani e Darmati e saremo veramente cittadini del mondo grazie grazie Marino grazie sei stato veramente sei stato grande ti ringrazio perché la lezione di civiltà una lezione oltre che di cultura cultura vuol dire civiltà allora grazie ti ringrazio infinitamente perché è veramente stato notevole il tuo intervento non occorre aggiungere assolutamente niente hai detto tutto hai detto assolutamente tutto questa meravigliosa cultura che ci ha legato che ci lega e assolutamente le nostre radici bisogna andarle a coltivare il rizoma come diceva prima Tony Concina assolutamente bisogna farlo ricrescere rispuntare veramente grazie Anna Maria grazie a te io spero di aver trasmesso perché vedete quando noi parliamo quando parli tu parlano altri dei nostri noi nominiamo la controparte slovena e croata non so se dall'altra parte ci nominano a noi in questo modo però se saremo così bravi di continuare a dialogare andare lì farci conoscere sempre più sono convinto che pian piano anche loro si ricorderanno bene dei figli di quella terra certo certo assolutamente sì allora oltre al grazie a Marino io adesso lancio la prossima conferenza che sarà che sarà eccola giovedì 3 marzo sempre alle ore 18 questa volta avremo con noi Rosanna Tulcinovic che ci parlerà di Rovigno e la fabbrica tabacchi quindi riprendiamo i giovedì il primo giovedì del mese con una cittadina di Istriana o Dalmata o quello che sarà e comunque questa volta parleremo di Rovigno e la fabbrica tabacchi ringraziamo tutti di cuore Marino non ho parole ancora per ringraziarti veramente grazie a voi grazie grazie mille ci sentiamo ci sentiamo presto grazie grazie a tutti buonasera saluti buonasera a tutti buonasera a tutti grazie a tutti